E' quasi certamente di natura dolosa l'incendio che si è sviluppato la notte scorsa in uno studio legale alla periferia di Biceglie in via Luigi Papagni. E' accaduto poco dopo la mezzanotte, le fiamme hanno annerito la saracinesca del locale situato a piano terra e parte della pavimentazione della parete esterna. Danni maggiori sono stati evitati grazie al tempestivo intervento di alcuni residenti, in particolare i proprietari di una pizzeria vicina che ha permesso di domare il rogo prima che si propagasse ulteriormente. Dopo la segnalazione al 112 sono immediatamente intervenuti i carabinieri della tenenza di Biceglie che hanno avviato le indagini per far luce sull'episodio, da verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Sul posto sarebbe stata rinvenuta anche una tanica contenente del liquido infiammabile.